L'affetto di Pagani a Giorgia, che in questo momento è andata via perché aveva altri impegni. Ovviamente mi sentivo di fare a tutti quanti voi un appello. Domenica prossima sarà una giornata importantissima per tutti quanti noi paganesi. Dobbiamo veramente perdere cinque minuti della nostra giornata di domenica e andare a votare. Questa è la cosa più importante che dobbiamo fare. Andare a votare perché amiche e amici, se non si andrà a votare, poi per i prossimi cinque anni non possiamo neppure lamentarci se le cose non andranno bene come noi invece esigiamo che andranno come vogliamo che debbano andare. Allora, domenica, un atto d'amore per la nostra città. Andiamo tutti quanti insieme a votare e ovviamente votiamo con il cuore. Vabbè, votate Alberico Gambino, votate Pagani! Grazie mille! Allora! 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 Grazie mille! Allora!